Grazie Presidente, si tratta di una precisazione della formulazione anche qui in relazione a alcune osservazioni che erano uscite e erano emersi dal parere e una precisazione circa la natura della Commissione Roma Capitale e Riforme Istituzionali che era, insomma, abbiamo voluto dare rango statutario visto che comunque già era una commissione all'interno del regolamento del Consiglio Comunale che si affiancava alle altre due commissioni, quindi Garanzia e la Commissione delle Lette che poi adesso diventerà pari opportunità e si tratta semplicemente di una riformulazione più precisa per chiarire meglio le competenze che nel futuro potranno essere esercitate da questa commissione. Grazie.